Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla E siamo tornati su Batman Arkham City Siamo qui nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta O meglio dopo che abbiamo scoperto da Mr. Freeze Che serve un'enzima per potenziare o meglio per migliorare La cura che lui sta studiando E a quanto pare dobbiamo incontrare Rajal Ghul Ora chi è Rajal Ghul? Non è altri che il mentore di Batman Batman ha fatto parte di questa sorta di lega delle ombre Poi è diventato bravo bravo E si è messo a fare il supereroe Mentre Rajal Ghul punta a fare il cattivo E Rajal Ghul altri non è che anche il suocero di Batman Infatti la figlia è la moglie Oracle, nuovo piano Sono sulle tracce della lega degli assassini Che c'entrano con tutto questo? Aspetta un attimo C'è forse di mezzo Raj o sua figlia? Il pinguino aveva imprigionato uno degli assassini della lega nel museo Ho riconosciuto lo stemma È una delle guardie scelte d'Italia Lo sapevo Chi avrà mai quella donna per diventare di colpo la persona più importante della tua vita? Il mio obiettivo non è Italia Barbara Ho analizzato la cura incompleta di Freeze E pare che la risposta è Sia nel sangue di Rajal Ghul E va bene Bruce Vai a cercarlo Ma resta concentrato Questa volta non lasciare che ti ostacoli Ecco infatti stavo dicendo che La traccia in questione La ragazza in questione La figlia di Rajal Ghul Altri non è che Italia Ghul Che è la madre anche di Damien Wayne Quello che dovrebbe essere mi sembra il Terzo O il quarto Robin Mi pare Ora qua stiamo seguendo le tracce come al nostro solito Abbiamo del potenziamento Aspetta Non mi ricordo Mi dimentico sempre di potenziare tutto ogni volta Batman sonico Carica energia remota Però non me lo fa fare Ah perché ce l'ho già forse Avete il fumogeno Ok allora R2 Corazza balistica Allora aspetta Qua c'ho cos'altro c'ho Attacco in planata E dissimulatore termico Upgrade eseguito Ogni da devo potenziare anche un po' la tuta Se no Allora Vediamo un po' le tracce dove ci portano Allora Dove sarà Vedo che il Batcomputer ha ricevuto una sua richiesta dati sulla lega degli assassini Oh È una richiesta di materiale Ha mai pensato una cintura più capiente? Già fatto Era pesante Mi rallentava Avvisami quando arriva Oh oh Olle Qui è il caos Il capo è sparito Cosa? Dov'è andato il pinguino? Non saprei Un attimo prima diceva che Batman finirà nella sala dei trofei E quello dopo più niente Zero Poi? Credi che sia morto? Ah è andata su Sei tornato al museo Il museo è chiuso Hanno preso quegli stronzi degli infiltrati Sapevo che era meglio ammazzare Qual è il piano? Dai qui Ok Ammazza Oh quando siete tanti siete tostarelli Allora Questo Non è che c'è altro sopra Ah ah Poi Ah guarda dove è andato Ah Allora Qua Poi di qua Dove essere pronti a reagire Insegniamo a questi idioti che in comanda Si può sapere che li prende Non sanno che questo è il territorio del pinguino Pare di no Beh lo sapranno Appena riceviamo l'ordine Li facciamo tutti fuori Voglio vedere sangue Voglio che quello schizzoide di due facili Infianca il giorno che ha deciso Di venire qui Già Andiamo nel suo territorio Vediamo come la prende Sono pronto Anch'io Dove? Perché finisce qui la traccia Non la trovo Non vedo altre Capisco Il pinguino ormai doveva farsi sentire Te l'ho detto L'ha preso Batman Non ci credo Già Come fa Batman a entrare nel museo Quel posto è più chiuso della camera di mia madre dopo il ballo sconastico Che diavolo vorrebbe dire? Non vuoi saperlo? Invece sì Anch'io Abbiamo cose più importanti a cui pensare Per esempio che cosa facciamo se Batman ha eliminato il pinguino? Perché non andiamo a trovare tua madre? Parliamo d'altro Abbiamo toccato un nervo scoperto Cosa c'è? Tua mamma è una facile? No Ci scommetto Se vuoi saperlo Al ballo scolastico Aveva bevuto un po' Ve l'avevo detto Ed era così ubriaca Che ha ammazzato i suoi compagni Fatti a pezzi con un pelapatate Oh nidio Hai troppo fico per venire giù ad affrontarmi? Parla Parla quello che Sto pestando gli amici tuoi prima Dove caspita continuano i campioni? Ah qua Oh leo Guarda dove stanno andando i campioni Poi? Eh non dirmi che questa scende da qua? Dove va di qua? Poi? Gli ho ripersi Ah no ok sono qua Poi sale qua sopra Sta stupida Che ha lasciato queste belle tracce ematiche Dai dobbiamo solo fare un prelievo di sangue Altronde Ok Ok Forse è andata di sopra Eh infatti La traccia di sangue si è esaurita L'unico modo per trovare quell'assassino È individuare altre prove Ah guarda Ui chi è? Per trovare Raj Devo piazzare un segnalatore su quel ninja Devo avvicinarmi O sono io che è il problema Dai Batman Madonna santissima Dove cavolo è andata adesso? Se sei ancora vivo È solo perché il grande Raj al cullo consente Fermalo forza La sistemo io Stai indietro Non seguirci Non mi serve il tuo aiuto Davvero? Visto da qui non mi sembrava proprio Avevo il controllo Perché Alfred ti ha mandato? Era preoccupato per te Prendi questo Fallo analizzare E controlla ogni ospedale Pronto soccorso Chiunque lo abbia nel sangue Morirà nelle prossime 24 ore E di chi è? Oh È il tuo sangue Vero? Controllerò gli ospedali E tornerò qui Hai bisogno di me Posso farcela Gotham ha bisogno di te Sono tutti in pericolo Sul serio Tu credi? Se Strange conosce davvero chi sei Che cosa accadrà se lo rivela E poi come Fidati Troverò un modo Se ti servo Sai dove sono Lo so Ora vai Lanciacavo Ok Mi piace Pare che Batman abbia preso il pinguino Pensi che sia vero Non lo so Ma se è vero ci serve un piano subito Mi piace Pare che Batman abbia preso il pinguino Pensi che sia vero Non lo so Ma se è vero ci serve un piano subito Senza il pinguino due facce farà la sua mossa E prenderà il comando Lo so Ma Catwoman non l'ha fatto fuori No Dicolo che gli ha solo fatto un po' male Tornerà Anche se nessuno sa come Ok Adesso so dove devo arrivare Ma pensavo di dover entrare lì dentro Invece non era lì Woman è sensazionale Capituliamo Batman ha salvato Freeze dal pinguino Lavorano insieme adesso Ah Batman non lavora con Freeze Ma ha eliminato il pinguino per arrivare a Freeze Freeze non lavorava per Joker Sono certo di sì Quella specie di frigobardo Ok Oracle di Batman Venite qui Ho trovato Batman What? Oracle di Batman Venite qui Ho trovato Batman Oracle Vado sotto la superficie Laggiù Gotham è un labirinto di acciaio e ferro battuto Il segnale potrebbe indebolirsi Cercate di seguirmi Copertura satellitare aggiuntiva reindirizzata Buona fortuna Bruce Ok Dunque ancora più giù E come in Arkham Asylum Ci pensano le dentiere a farci la strada Io che pensavo che lassù fosse un inferno Qui fa freddo C'è umido E puzzo come se fosse finito nella tana di Croc La smetti mai di fregnare Setti tutti e due Abbiamo del lavoro da fare Gli uomini del pinguino sono in fuga Joker vuole che li ammazziamo tutti Pensavo che gli offrisse un lavoro Ha detto che possiamo decidere noi A me quelli lì non piacciono Perciò li facciamo fuori Per me va bene Batman È qui Sì lo so Porco Ti sfilo il destino dalla faccia Ok Madonna che fatica ogni volta Joker ha sguinzagliato i suoi scagnozzi nelle fogne Per cercare gli uomini del pinguino rimasti Lì c'è un enigma E qua mi serve il lanciacavo Ma è di là però Ok Ascoltate Gli ultimi uomini del pinguino Sono rintanati da qualche parte più avanti Joker li vuole Li uccidiamo Decidiamo noi Io dico di sì Metà degli uomini del pinguino Erano mercenari Mai fidarsi Prima sono tutti armati Vedremo che succede quando li prendiamo Pagò di uomini del pinguino 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 ok la rocca mi serve l'infiltratore carrozza protocollo 10 in vigore tra 5 ore dai vanno solo a prendere un campione di rage che caspita ci vuole a prendere un campione di rage ma che mi segnalirà se poi qua non ho eccoci qua oh tutto bene è successo qualcosa tutti i valori della tua tuta sono in rosso dammi solo un minuto starò bene no non è vero sbrigati ti resta poco tempo guarda che noi non abbiamo che c'è in questi affari armi esplosivi rilevatori termici le basi per un esercizio per fare nero noi abbiamo questa rocca non dovremmo essere in una prigione fai tante domande bello mio sicuro di essere dalla nostra parte dove vuoi arrivare sto con joker lo sai bene sto nella banda da anni allora piantala con le domande sai che a joker non piace ok scusa mi sembrava strano tutto qua qualcuno sa che posto è questo non ho mai sentito parlare di una vecchia gota allora non sei mai andato a scuola vero? come mai? troppo preso a bagnare ok oracle sembra che joker stia mandando i suoi uomini a rubare le armi delle guardie tiger brutta cosa quelli hanno gli armamenti militari più aggiornati se joker mette le mani su quella roba beh hai capito non lo farà glielo impedirò beh guarda un po' che si dice dottore? non farmi del male oh non ti faremo del male dolcezza sei troppo carina per quello per favore sono una praticante non so cosa succeda qui posso averla? no hai già avuto l'ultima forza fuori il resto delle armi accatastale laggiù abbiamo delle scadenze che sono quei cosi? qualcuno in questa stanza sta usando un gemmer se lo neutralizzo potrò rilevare i bersagli qui dentro trasinano qualsiasi andate a vedere chi è che perdi qua c'è qualcuno lassù che stai facendo lassù? aiuto fammi scendere io copro questo lato allora sono tutti là come riesci a farlo? che sta succedendo? state zitti dobbiamo continuare a cercare siamo tutti morti non ci fai paura sì ma con queste cretinate ti troveremo chi sta a urla? cosa? scopo sono perso provatelo ora sopra io qui ho capito in quei piani come pensi di cavartela se quei cosi non ci sono più? nasconditi ora che succede? fatemi uscire l'ho perso dobbiamo trovarlo ora che diavolo stai facendo? mi serve aiuto vai uno me ne manca adesso uomo a terra uomo a terra ci sei solo tu boom ok ma bravi io sono qui nel mio letto da malato e voi miserabili idioti non riuscite nemmeno a fermare uno stupido vestito da pipistrella quelle armi mi servivano ora dovrò oh scusa Batman me lo sono quasi fatto scappare dottoressa grazie a dio sei tu ti prego aiutami tieniti hoppala grazie cosa ci fai a darkham city a darkham city che diavolo ci faccio qui mi hanno presa fuori dall'ospedale dove faccio il tirocinio mi hanno drogata e mi sono svegliata in un edificio laggiù il responsabile di questa struttura ha radunato i medici per curare joker ti è andata male sta morendo vero così pare è un male se non mi dispiace e ora devi restare qui non farti vedere andrà tutto bene tornerò ok allora anche questo sarà un appeso bello posto ora che sono io joker non sta rubando le armi da strange è strange che sta armando joker ne sei sicuro? beh certo che si ma perché mai dovrebbe? forse cerca di prendere il controllo delle strade indagherò sulla cosa ok prima non dovresti trovare rage lo sto facendo non temere barbara vediamo un po' qua cosa abbiamo questo mondo è condannato le città come Gotham cresceranno come se l'inferno sputassero i macciocchieri e sarisse di un giorno cresceranno gli edifici fino ad oscurare il sole e la gente che li abita soffocherà degli aspiti dell'invitamento alla fine quando non resterà spazio questo mondo morirà tanto l'altro mentre gli errori del mondo chiuderanno la sua barra ma non è detto che questo sia il tuo futuro sono dappertutto oh è un nuovo modo di giochi c'è la salvezza al verbo di te uno sguardo su un futuro basato su una scodetta scuotefacente grazie alla quale incontro avresto un gelato per l'altra diventando una luce di speranza derido che incuriosi avvicinati guardati grazie a tutti Scusate fanciulle Ma devo Far saltare questo Ehi Raj Ti cerca trova Il segnale del tracciatore continua oltre questa porta Ma sembra che non venga aperta da decenni Forse gli assassini usano un altro ingresso Devono essere i famosi guardiani meccanici di Wonder City I loro meccanismi erano molto avanzati Rilevo una specie di nastro di memoria Quasi una sorta di videoregistrazione primitiva Forse posso acquisirlo e analizzarlo Tra poco ci fermiamo eh Deve essere un altro ingresso È una tecnologia molto avanzata rispetto a quella dell'epoca Sembra che i dati siano immagazzinati in una memoria condivisa Forse là potrò recuperare le informazioni degli altri guardiani Buono Allora vediamo Sopra di qua magari Ce n'è uno lì sopra Cento per cento Ok Grazie al montaggio dei video della sorveglianza so dove l'assassino Deve aver usato un'entrata segreta Devo trovarla È qui Qui si potrebbe inserire una spada Ok Ok Molto bene ragazzi Direi che per oggi possa essere tutto La prossima volta Ripartiremo da qui Io come sempre vi invito a lasciare un bel like A commentare Condividere Iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E Alla prossima Ciao Belli Grazie a tutti.